Sesta giornata del campionato di eccellenza, si gioca la sfida tra Spoleto e Città di Castello. Spoleto a quota 4 punti in classifica, Città di Castello a quota 6. Dunque match che si preannuncia molto importante anche dal punto di vista della classifica. Completo verde per lo Spoleto, completo bianco-rosso con pantaloncini bianchi per gli ospiti che provano subito a partire forte con un calcio d'angolo, colpo di testa che però termina sul fondo. Si fa vedere inizialmente il Città di Castello pericoloso con il cross di Mattei respinto e la conclusione poi da parte di Giannò con pallone che termina largo dalla porta difesa da Cherubini. Sostituzione forzata per il Città di Castello fuori dell'orso dentro Vassallo. per un problema fisico, attacca poi, si fa vedere in avanti anche lo Spoleto che deve subito, prima viene fermata l'azione per un fallo in attacco, poi imbucata in area di rigore l'uscita da parte di Stefanelli che in qualche modo salva la porta del Città di Castello. Mantiene il risultato sullo 0-0 il portiere degli ospiti, ancora protesta all'indirizzo del direttore di gara che ha fischiato un calcio di rigore in favore dello Spoleto e dal dischetto. Lo segna, cola, Stefanelli tocca ma non basta, palla all'angolino, 1-0 per lo Spoleto. Le proteste erano dei giocatori del Città di Castello per il calcio di rigore assegnato in favore dei padroni di casa che continuano poi ad attaccare qui il lancio in avanti, l'uscita da parte di Stefanelli e Gesuele lo colpisce in ritardo, si accende una faccia a faccia, viene ammonito il numero 9 dello Spoleto e viene ammonito anche il portiere del Città di Castello, Stefanelli che poi però persevera nelle proteste e viene dunque espulso dal direttore di gara. Rosso per il portiere del Città di Castello che dunque rimane in 10 uomini costretto a entrare il secondo portiere Bruschi e dunque gara che si complica per gli ospiti. Lo Spoleto prova ad approfittarne, calcio di punizione troppo lungo anche per la testa di Gesuele che però continua ad attaccare col mancino, segna un grandissimo gol, il numero 9 dello Spoleto. Felice Gesuele 2-0 per il bomber dei padroni di casa, viene anche allontanato un dirigente dalla panchina del Città di Castello, dunque doppio vantaggio nei primi 45 minuti per lo Spoleto con i gol da parte di Cola e Gesuele, 2-0 e uomo in più. Nella ripresa però il Città di Castello non ci sta e vuole tornare in partita. conclusione col mancino che termina di poco larga, è il primo però squillo da parte degli ospiti che attaccano ancora in area di rigore, la palla viene messa in mezzo, arriva il gol da parte del Città di Castello con il numero 10 Valori che accorcia le distanze, 1-2 anche con l'uomo in meno. il Città di Castello trova poi il gol del pareggio, grandissima giocata e conclusione in porta da parte di Posada Ienes che fa il gol del 2-2. Bellissima reazione degli ospiti che trovano dunque il pareggio con l'uomo in meno. Spoleto non ci sta, ci prova ancora, il colpo di testa di Gesuele che termina di poco alto, attacca poi a viso aperto anche il Città di Castello, conclusione respinta da Cherubini. Adesso partita più viva che mai, con ancora la chance per il Città di Castello che scheggia la traversa, va vicinissimo al gol del 3-2 anche in un'altra occasione, la parata però sempre di Cherubini che dice di no e poi in contropiede ne approfitta il neo entrato Tomassoni che sigla il gol del 3-2, il gol vittoria per lo Spoleto che stende definitivamente il Città di Castello, Spoleto batte Città di Castello 3-2. Lo Spoleto è questo, dopo un primo tempo discreto dove ci siamo difesi con ordine, siamo ripartiti, non dimentichiamo che abbiamo giocato contro una delle squadre più forti del campionato, qui certe volte si dimentica un po' la realtà dei fatti, dove noi siamo una squadra che se ci mette questa intensità, questa voglia può competere con tutti, però è capitato con 15 minuti al secondo tempo che abbiamo avuto un blackout un po' così inspiegabile perché loro hanno spinto molto, ci hanno messo in difficoltà seppur con l'uomo in meno, noi forse eravamo un po' appagati e eravamo convinti di averla vinta, però questo è un errore che ci deve servire e questo lascia ben sperare, però nulla toglie che noi domenica avremo un'altra partita impegnativa, poi noi avremo un'altra ancora, i campionati come tutti ben sanno si decidono verso fine aprile e non a ottobre e novembre. Dobbiamo migliorare su certi aspetti perché oggi abbiamo rischiato di portare a casa un pareggio dopo il 2-0 per noi e la superiorità numerica, mi sembrava un po' eccessivo diciamo, però questa è una squadra che deve crescere sotto il profilo soprattutto caratteriale di capire che l'eccellenza è un campionato difficile con tutte squadre forti, io ti ripeto posso solo mettere a disposizione la mia esperienza e il mio impegno.